Un modo per far capire ai docenti come cambiare scuola è possibile e senza una scuola diversa, senza saperi diversi, non avremo una nuova società perché la cultura ha il fondamento di una vera e profonda trasformazione. Dice René Girard, una società è violenta, l'economia è violenta perché è violenta la cultura che la sostiene. Quindi dobbiamo andare a una cultura nuova, a una cultura della pace e dell'incontro tra popoli. Un modo per far capire ai docenti come cambiare scuola. Un modo per far capire ai docenti come cambiare scuola. Grazie a tutti.